Carissime amiche e carissimi amici della Champions League, buonasera a tutti. Ecco, entro così all'improvviso nella vostra vita, Paco Locco, il secondo in classifica. Quest'anno va male a tutti, invece sono qua io con queste grandissime prestazioni. Secondo in classifica, lascio andare un po' avanti Frank che si sta gasando ma deve stare molto tranquillo, lui e tutte le cose, tutti gli scoop che stanno venendo su di lui. Intanto farò vedere che io, la vera persona democratica e sportiva, non sono così scocchioso nei confronti degli altri concorrenti. Ad esempio, ospite, guarda caso qui da me, un certo Mr. Mu, che in questo momento si trova nella zona infernale della classifica, era in alto, era così esaltato ed è andato a finire nella zona bassa, nella zona inferno. Mr. Mu è qui vicino a me e adesso io molto democraticamente lo farò vedere, non lo obbligherò a fare cose strane, ma farò vedere solamente come i concorrenti sono costretti a complimentarsi col secondo in classifica. Mr. Mu, fatti innanzitutto vedere. Saluta pure. Buonasera a tutti. Allora Mr. Mu, tu sei nell'inferno. Eh sì. Ti sta bene nell'inferno? Sì. Non è anche tanto male. Non è anche tanto male. Si è un po' scossi forse all'inferno, i capelli vedo che sono un po' così. Eh sì. Cosa vuoi fare tu volontariamente con seconda in classifica? Dillo. Volontariamente? Sì. Niente. Non è che vuoi baciare la mano al secondo in classifica? Cosa? No. Baccia la mano! Eh! Democratico, eh? Una roba democratica, lui non è stato costretto, è stato liberamente, vero? Autonomamente. Autonomamente è deciso, sì sì. Tutto bene allora? Sì. Bene? Bene. Bene. Grazie, Mr. Mou. Saluto a tutti. Ciao. Ci vediamo presto, mi sa. Ci vediamo presto.